che tosta ma dici che è troppo tosta non lo so perché non è che se intosta e più dopo quando si ferma ma per esempio per farla elastica e solo questo di farina o c'è pure qualche prodotto che la fa più eccoci Locke allora è vero che il cassotto è il re del mio pasta you can make it also with the the real machine to do it you know la maggior parte dell'organizzazione che ha fatto proprio questa mia vita e ho preso il tuo compreso e la sua benedizione sotto però c'è lui Sì, sì, sì.